Gli aggiornamenti del resoconto di oggi riguardano la direzione di Bakhmut. Qui, in una ardita manovra, le forze russe hanno lanciato un'operazione attraverso il canale per stabilire un'essenziale testa di ponte che minacciava di penetrare il fianco sud di Chasiviar. Ma inaspettatamente le forze ucraine sono riuscite a individuare e bersagliare il comandante del distaccamento d'assalto, ostacolando l'operazione russa e stabilendo le condizioni per un decisivo contrattacco. I precedenti assalti russi nell'area residenziale di Chasiviar non erano riusciti a creare progressi significativi. Le forze russe hanno quindi cominciato a concentrarsi sulle zone meno elevate e più aperte del fianco sud della città. Il loro scopo era quello di attraversare il canale a sud usando le foreste come copertura e stabilire posizioni per poter catturare Stupoczni. Mettere in sicurezza questa città permetterebbe ai russi di espandere la testa di ponte e poter accumulare una forza d'assalto più grande per poter così attaccare Chasiviar da sud, evitando i costosi assalti frontali che richiedono l'attraversamento del canale direttamente di fronte alla città. Questo approccio è stato scelto per via dell'autostrada da Bakhmut a Ivaniske e per quella che porta al canale, che permettono ai plotoni meccanizzati ai russi di muoversi più velocemente, riducendo il rischio di essere bersagliati dai droni ucraini. In più, Bakhmut e le zone circostanti, compresa Ivaniske, sono protette da una vasta rete di sistemi di guerra elettronica, rendendola la via più sicura per l'assalto. Grazie a questi vantaggi e al fatto che l'autostrada è piuttosto corta, i russi sono riusciti a schierare le unità d'assalto a scaglioni in breve tempo ed evitando i droni ucraini. Appena arrivati, gli assaltatori sono sbarcati e si sono sparsi sfruttando l'ambiente urbano come copertura. Si sono poi mossi e raggruppati nella foresta a sud della città. A quel punto hanno deciso di attraversare il canale usando un punto d'attraversata, in quanto i ponti erano stati distrutti durante gli scontri di un anno fa. Con l'intera aria coperta dalle foreste e lanciando l'operazione di notte, le forze russe sono riuscite ad attraversare il canale senza farsi notare e stabilire posizioni nel lato ucraino. Poco dopo sono stati rilasciati video che mostravano gli assaltatori russi hissare le bandiere di battaglia per indicare la loro presenza nella testa di ponte di Stupoczni. Questo e altri video non censurati possono essere trovati nel nostro Telegram, il cui link è nel messaggio in evidenza. Dopo aver compreso che i russi avevano cominciato a spingere verso Stupoczni, le forze ucraine hanno cominciato a organizzare un contrattacco. Prima di tutto, avendo le forze russe attraversato il canale, gli ucraini hanno stabilito controllo di fuoco su di esso con droni e forze di terra, tagliando il collegamento che le forze russe nella foresta avevano con il distaccamento vicino a Stupoczni, minando la connessione logistica. Mantenendo le loro posizioni dall'altro lato, gli ucraini si sono dedicati all'accumulare pazientemente forze in attesa del momento giusto, mentre i russi continuavano a concentrarsi sull'avanzare attraverso il canale. Le forze ucraine hanno poi lanciato un contrattacco da sud, tagliando la via di fuga ai russi, distruggendo il distaccamento d'assalto e di conseguenza la testa di ponte. Durante l'operazione il comandante dell'unità russe è rimasto ucciso, minando gravemente l'organizzazione e la struttura di comando delle forze russe, decapitando l'assalto stesso. Oramai a conoscenza dei piani russi, il comando ucraino ha rinforzato le posizioni sul loro lato del canale, usando la copertura offerta dalla foresta al loro vantaggio. Questo fortificare l'aria renderà a punture assalti russi molto più costosi. Per minare l'efficacia di futuri assalti russi, le forze aeree ucraine hanno sganciato bombe JDAM su un deposito di munizioni russo vicino a Bakhmut, mettendo ulteriore pressione sulla logistica russa locale. Questi bombardamenti dovrebbero causare momentanee carenze di munizioni che richiederanno giorni o persino settimane per essere risolte, rallentando la loro capacità di lanciare assalti. In generale i russi hanno cercato di sfruttare le complicazioni delle difese ucraine a sud di Chasiviar solo per ritrovarsi con un gruppo d'assalto intrappolato e poi eliminato una volta attraversato il canale. Mantenendo una forte difesa vicino al canale e rinforzando le posizioni qui, gli ucraine si stanno assicurando che le forze russe non abbiano una seconda occasione di superare il canale. Questo costringerebbe i russi a tornare ai costosi assalti contro la parte centrale di Chasiviar riducendo il personale a loro disposizione per future operazioni. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.